Musica Oggi è martedì 29 agosto, buongiorno a tutti, ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV Come sempre in tanti al mattino per seguire le notizie pubblicate sui due quotidiani in Carrino e Corriere Adriatico Edizioni di Peso Rubino e che noi puntualmente ormai da 11 anni vi facciamo vedere con i titoli più importanti Ben ritrovati allora, cominciamo dal Santo di Oggi, vediamo il Santo di Oggi Oggi la Chiesa ricorda il martirio di San Giovanni Battista Vedete con la guzzino, con il coltello, con la lama, la spada pronto per tagliare la gola, la testa, San Giovanni Battista Allora il sole è sorto alle 6.28 e tramonterà alle 19.50 Il tempo, vediamo il tempo, allora bisogna consultare almeno due o tre siti perché altrimenti qua non ci si capisce più niente Questa mattina, secondo il bollettino della protezione civile delle Marche, avremo nelle prime ore della giornata Possibilità di rovescio temporale lungo la fascia costiera centrosettentrionali Mentre nelle ore centrali della giornata isolati fenomeni saranno possibili nelle zone montane o meridionali Ma a giudicare quello che c'è fuori pare di no Ma comunque questa è la previsione che pubblica oggi sul sito della Regione Marche appunto la protezione civile Poi domani invece, tempo bello, guardate, mercoledì 30, cielo sereno su tutta la Regione Marche Mentre giovedì un po' di nuvolosità Ma attenzione perché il probabile ingresso di una saccatura nel fine settimana porterà tanta pioggia Soprattutto nella giornata di domenica Allora andiamo a vedere adesso subito le pagine, le prime pagine dei quotidiani Cominciamo dal resto del Carlino, la pagina di Pesaro In primo piano il degrado di un palazzo a Emonino Immagine del degrado, l'era ha liberato gli appartamenti ma ora è il regno degli sbandati e degli abusivi Mentre i Free Vax affrontano il sindaco alla manifestazione del Partito Democratico, la festa dell'unità Protesta silenziosa per Burioni, da settimane dicono quelli che vogliono decidere sui propri figli se vaccinarli o no Da settimane dicono aspettiamo un incontro L'obbligo vaccinale per le scuole si va verso l'obiezione di coscienza Presidi preoccupati per l'attuazione della legge Poi la notizia di un mega yacht da 110 metri che è all'ancora d'un miglio dal porto di Pesaro E di un magnate uzbeco e guardate che bello Poi sotto invece finisce il roff, Mariotti ha un malore, è stato operato Però rassicura tutti, sta bene Mentre a Marotta l'altra notte rifugiati ad una festa di compleanno Finisce abbottigliata in stazione una furiosa rissa addirittura conferiti Un treno che è dovuto partire in ritardo perché c'erano i carabinieri che stavano cercando questi soggetti Un po' anche tra i binari insomma della ferrovia vicino a Marotta Allarme e sicurezza invece a pagina 5 del resto del Carlino di questa mattina C'è l'approfondimento, alcuni retroscena di quella notizia che vi abbiamo dato anche ieri Vi abbiamo detto anche ieri sempre sul resto del Carlino Di quella coppia di 25 anni che si era appartata tra le 4.30 e le 5 del mattino Nei lettini dei bagni Sacro Cuore a Pesaro Volevano stare un po' da soli E quindi a un certo punto si sono ritrovati di fronte tre uomini Tre stranieri che probabilmente volevano rapinarli Questi hanno avuto paura, chiaramente sono scappati Tutti i dettagli sono sull'articolo che pubblica oggi con tutti i particolari Appunto Roberto Damiani sulla pagina 5 L'unica cosa che forse vale la pena un attimo sottolineare è questa Chiaramente il ragazzo è fuggito con la ragazza, gli ha gettato i due telefonini Credo anche 5 euro Insomma, come dire, prendete tutto ma lasciateci stare Non date fastidio alla ragazza Memory anche di quello che era successo poco lontano, un po' più a nord Insomma, adesso i carabinieri cercano in qualche modo di ritrovare queste idee Di trovarli, ma è diventato un impegno serrato E di rintracciarli anche attraverso i telefonini Ma attenzione, la SIM, la scheda dentro i telefonini è stata subito bloccata dai ragazzi E nessuno di loro aveva in uso quell'applicazione Ed è questo che volevo dirvi L'app che permette di rintracciare il luogo dove si trova il cellulare Spesso non lo facciamo, ma è bene che chiunque ha uno smartphone Ormai quasi tutti Ecco, scarichino queste applicazioni che sono utili Anche purtroppo in questi casi E adesso per cercare i tre rapinatori Insomma, non appare per niente facile Però c'è questa applicazione che consente di rintracciare il telefono In caso di appunto furto oppure dimenticanza, eccetera Vi dice dove è esattamente In questo caso sarebbe stato utile Allora, la pagina di Fano invece Si parla di turismo, di presenze Ci salva il nord Europa Addio agli Umbri Molti hanno fatti, dice Cecchini Il presidente degli albergatori di Fano Molti Umbri li abbiamo persi Poi dice stop all'obusivismo E ci salva il nord Europa Tedeschi, norvegesi e altri Avrebbero graziato la stagione fanese Il vice sindaco Marcheggiani dice Le nostre manifestazioni erano affollate Ma bisogna investire di più negli eventi sportivi Ma c'è un'intervista che Anna Marchetti del Carvino ha fatto ad un albergatore che si trova a poche centinaia di metri da un luogo dove d'estate si è ballato, ballato e cantato, insomma si è fatta musica fino alle 3 alle 4 della mattina Ed è un albergo Che si chiama Excelsior E che appunto ha due passi dal baretto e dallo chalet del mare Allora, che cosa dice questo albergatore? Intanto che i suoi clienti si lamentano sempre perché c'è musica fino all'alba E lui dice, dalle 8 in poi, io in hotel All'Excelsior, siccome ne ha più di uno Evito di andarci perché A chi protesta non so più che cosa rispondere E poi dice anche, Fano non è una meta per giovani Sopra i 20 anni Quelli che vengono in vacanza da noi Fino a 15-16 anni Sono in compagnia delle famiglie Poi appena possono andare via per conto loro in vacanza Certamente a Fano difficilmente ci tornano Perché? Perché la città di Fano È una città più che altro Per gente che ha una certa età Questo ormai lo sappiamo È così da sempre Insomma, scherzando si dice che è un po' un turismo geriatrico Quello di Fano Però insomma, c'è un po' di verità Nel senso che i giovani non vengono a Fano Dunque, è forse un po' troppo Pensare soltanto a far divertire i giovani Che, ripeto, vanno altrove Ma questo è un dibattito aperto E per cui ci fermiamo qua Siamo circondati dai lupi invece Andiamo sulla pagina di Fossombrone Caglia Urbagna Siamo a Cagli Il Carlino questa mattina pubblica La testimonianza di Roberto Baleani Che dice appunto Siamo circondati dai lupi Roberto Baleani è questo signore Che indossa questa maglietta Il lupo, eccolo qua Fotografato in un filmato Realizzato dall'agricoltore Verso Tavoleto E dice Cresce la paura tra la gente Perché un esemplare piccolo Si è intrufolato dentro la mia attività Dice Di rivendita di motociclette Quindi insomma Come dire Sono tra noi ormai I lupi Il sindaco Barbieri Andiamo invece a Mondolfo Il sindaco Barbieri Lancia la lotta al degrado Nel Mirino ci sono due hotel Uno è l'ecomostro E lo vedete nella fotografia L'hotel Europa Quello di Marotta Mentre nel tondo Il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri Tra l'altro mi scuso con il sindaco Perché ieri sera Nel telegiornale Confondendomi con Bunci Che invece è il sindaco Di Fossombrone L'ho attribuito Ad un movimento Che è il Movimento 5 Stelle Al quale non fa parte Perché è stato eletto Con una lista civica Quindi non c'entra assolutamente niente Con il Movimento 5 Stelle Ho avuto un lapsus Ieri in studio E mi sono confuso Un po' con Bunci Invece del Il sindaco di Fossombrone Vabbè poco male Insomma non è successo nulla Andiamo invece adesso Urbino Perché il resto del carino Dedica due pagine Noi ne prendiamo soltanto una Sulla festa dell'Aquilone Che si terrà dal 31 agosto Al 3 di settembre E questa è la 62esima edizione È una festa molto bella Un ritrovo molto bello Vedete tutti questi aquiloni Che si alzano in volo In uno scenario naturale Meraviglioso E si parla di questo Sulla pagina del Carlino Di Urbino Andiamo adesso invece Sulla prima Del Corriere Adriatico Allora In primo piano E qui ci sono Quattro pagine Dedicate alla Questione dei vaccini E in particolare A quella notizia Che sta facendo Il Giro dell'Italia Cioè Della Della ostetrica Che non era vaccinata E che Ha preso il morbillo Ora qui sono Sono problemi Nel senso che c'è Questa emergenza Per l'ostetrica Con il morbillo Non era vaccinata L'allarme è scattata All'ospedale di Senigallia Controlli su sei neonati Sei operatori sospesi Volpini parla di una situazione Preoccupante E questa è la Fotografia rubata Vedete Con un telefonino Evidentemente Della divisione di ostetricia Dell'ospedale di Senigallia Ma In primo piano C'è la cronaca Sull'edizione di Pese Urbino Del Corriere E il racconto Di questa maxirissa Tra richiedenti asilo Sangue e paura Alla stazione di Marotta Fuggi e fuggi Dei turisti L'altra notte I carabinieri Identificano Sette nigeriani Entriamo dentro Allora Guardiamo le pagine Interne E come dicevamo In primissimo piano C'è la questione Dell'ostetrica Contagiata dal morbillo La donna Non era stata vaccinata Senigallia profilassi Adesso per familiari Genitori Di neonati E colleghi Sei operatori Sono stati già sospesi Volpini Che è il presidente La commissione dell'assente Parla di situazione Preoccupante Nelle Marche Perché sono più di 53 I casi Sono anzi Sono 53 I casi accertati Nei primi sei mesi Del 2017 Contro i 7 Nel 2016 Uno soltanto Il caso di morbillo Nel 2015 In tutta la regione Marche Vedete In Italia 3 milioni di giovani Dai 15 ai 39 anni Suscettibili Al morbillo 27 anni E l'età media Delle persone colpite Questa è la pagina 2 Del Corriere E poi La pagina La pagina 3 invece Sempre su questa questione Dei vaccini Vaccinazioni obbligatorie Per le professioni sanitarie Galli e burioni Trattare anche gli adulti E le ragazze In età fertile E poi C'è C'è stato un blitz Sempre a proposito Di vaccini Blitz delle mamme In comune A Pesaro No Mio figlio Non lo vaccino Il sindaco Ricci Ha incontrato Un gruppo di genitori Di bambini Dell'asilo Ma noi faremo Dice Rispettare La legge E qui Il Corriere Ripubblica Ancora una volta Un riquadro Con le precisazioni Anche del Ministero Della Salute Sono 10 vaccini Lo ricordiamo Prendiamo un attimo Spunto Da questo grafico Pubblicato da Ansacentimetri 10 Sono quelli obbligatori L'esavalente Quindi l'antipoliomelitica L'antidefterica L'antitetanica L'antiepatite B L'antipertosse E poi c'è un altro Che ve lo risparmio Perché ha un nome lunghissimo Poi c'è l'antimorbillo L'antirosolia L'antiparotite L'antivaricella E poi ci sono 4 invece Dosi raccomandate Che sono Contro la meningite B e C L'antipneumococcica E l'antirotavirus Ok? Ecco Però sappiate Che c'è quest'obbligo Per chi deve andare a scuola Tra gli 0 e i 16 anni di età Per l'iscrizione Agli asili I non vaccinabili Per motivi di salute Sono inseriti in classi Di soli vaccinati O immunizzati Ok? Insomma c'è C'è anche una multa Per chi non paga Per chi non vaccina C'è una multa Per chi non vaccina I propri figli Da 100 a 500 euro Insomma tutti i dettagli Sul giornale Di questa mattina Andiamo sulla pagina Di Fano invece Del Corriere Adriatico Il Palio fa crescere La città E può espandersi in centro Il commento del sindaco Dopo il successo Della quarta edizione Del Palio delle Contrade Che c'è stato l'altro giorno Che si è concluso Domenica a Fano Paci pronto a chiudere i conti Invece Al Circolo Tennis Ma vuole una figura Di garanzia Berluti indicato Come possibile Successore di Lungarini Alla presidenza Del Circolo Tennis Poi la sostenibilità Diventa festa E promuove le esperienze Sempre sulla pagina di Fano Da venerdì a domenica Stenda al Pincio La scoperta dei processi Di produzione Poi San Nicola Pesero La Fiera Porterà 650 espositori Quattro giorni Con un occhio alla sicurezza Ampio spazio Alle eccellenze Eno gastronomiche Poi la festa Degli Aquiloni Anche sulla pagina Di Urbino Del Corriere Adriatico Area di sfida Dieci Contrade Nel cielo azzurro Quartieri Già mobilitati Per la gara Nel fine Settimana E poi A Fossombrone Si parla ancora Del bocciodromo Stallo e polemiche La minoranza accusa Il comune Dopo lo stop Per l'abuso Sull'area Della provincia Il primo cittadino Bonci Dice aspettiamo risposte Ma le alternative Sono pronte E poi dalla valle del Cesano Ancora la rissa Alla stazione Che ha bloccato Addirittura Un treno Violenza E paura L'altra notte Due nigeriani Rimangono feriti Per i colpi Con bottiglie rotte Sangue sul pavimento Porta finestra Infranta Fuggi e fuggi I turisti Identificati Sette richiedenti Asilo politico E poi da Senigallia Nasconde la droga E picchia Un agente Arrestato Un parcheggiatore Abusivo La volante Intervenuta Dopo una telefonata Che segnalava Una lite in casa Una lite in casa Con un collega E poi l'ultima Invece notizia Ve la diamo Dalla pagina 42 Di Ancora Il Corriere Adriatico Guardate la fotografia Il titolo Baywatch Ubriaco Abbandona La torretta Spiaggia sguarnita Mentre litiga Con la ex fidanzata Da mezza valle Sale fino al parcheggio Per inseguire Una vecchia fiamma Però rischia Il licenziamento E dunque E' questione di alcol E' questione anche di gelosia Un mix micidiale Che rischia di costare Il posto di lavoro Ad un giovane Bagnino Questo è Siamo in fondo alla stagione Noi ci fermiamo qua La rassegna stampa Torna domani mattina Alle 7.30 Al 338 4968 250 Potete come sempre Collaborare con la nostra redazione Inviandoci le informazioni Inviandoci le vostre informazioni Tre segnalazioni Anche un messaggio di testo Oppure foto e video Le migliori come sempre Quelle esclusive Verranno premiate Con una piccola ricarica Di 5 euro Bene Grazie per averci seguito Ci vediamo stasera Alle 20.30 Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti